I giovesti sono vandalici, ecco cosa sono? Cioè questo è terrorismo, neanche vandalico, questo è terrorismo, puro e proprio. Cosa ha chiedete a questo punto? O scorta con esercito carabinieri, o di bloccare la raccolta del latte, perché noi bloccheremo la raccolta del latte noi camionisti, e non faremo conferire il latte adesso noi ai casefici, perché anche i casefici devono essere chiusi. Noi non possiamo rischiare la vita sul camion andando a lavorare.